la mia passione per lo sky running nasce un po dalla mia passione in generale per la montagna amo vivere la montagna 365 giorni all'anno sono nato come scialpinista centro sportivo esercito di Courmayeur ha reso possibile fare della mia passione un lavoro l'inverno si mettono le sci e le pelli d'estate mi piace mettere le scarpette da corsa fare il doppio nodo e avventurarmi sui sentire di montagna ho iniziato a gareggiare di corsa un po di pari passo con le gare di scialpinismo le mie prime gare sono state delle vertical e dopodiché sono passato alle sky race vere e proprie una delle prime è stata la stava dello sky running mi piace proprio il fatto che quando sono in montagna riesco a scollegarmi dal resto del mondo sto bene con me stesso e mi sento libero la sky che mi piace di più sicuramente la dolomites l'ho corsa quattro volte e di cui due volte ho fatto podio una volta secondo una volta terzo e purtroppo mi manca ancora il gradino più alto del podio e gli atleti che mi hanno un po ispirato sicuramente si torna negli anni 90 in cui correvano atleti molto forti come bruno bruno fabio meraldi jean pelissier nel mondo dello sky running nadir maghe è un atleta in parte ha già dimostrato probabilmente le sue capacità ma sicuramente deve ancora dimostrare molto e sta ancora cercando nuovi stimoli e nuovi obiettivi per il futuro il mio punto di forza è forse la capacità tecnica in queste gare e la discesa è un mio punto debole potrebbe essere a volte che non ho abbastanza voglia di faticare di portare il mio fisico oltre il mio limite il mio sogno come come sky runner sicuramente quello di segnare il mio nome su un record proprio a casa mia che che sarebbe il cervino questa montagna per me rappresenta un po il simbolo di casa mia da dove abito tutti i giorni lo vedo lo ammiro e dopo dopo i record di bruno bruno e di chilean poter tentare di firmare il mio nome sarebbe qualcosa di veramente incredibile il record del cervino secondo me può essere paragonato a una medaglia d'oro olimpica è il re dei record all'insieme di tutto quello che rappresenta lo sky running ci va una buona capacità sia atletica che mentale che che tecnica non so quando proverò questo questo record sicuramente ogni giorno che che vedo il cervino è come una calamita che mi attrae e quindi prima o poi il piede lo metterò spero prima che sia diventato vecchietto grazie